Che brutto che l'hanno lasciato a casa, però, vabbè, lasciamo perdere. Volevo dire che è un enorme piacere presentare Filosofi di Alberto Ferretti. E a proposito di filosofia, mi viene sempre in mente una frase di un famoso filosofo finlandese. Ascoltate bene, un uomo senza una donna è come un pesce senza la bicicletta. Buon avvenuto da Benson! I'm so nasty, I'm looking for a man to love me! Buon avvenuto da Benson! Cavallone, tocca a noi! Eccoci qua, buonasera! Buonasera a tutti, sono Paolo Cavallone, eccoci qui! Io sono Tony Severo, siamo di Radio 105, facciamo le modelle soltanto stavolta! È bellissimo essere delle modelle, grazie, grazie! Troppo bello! Cavallone! Cavallone, io sono preoccupato! Che è successo? C'è troppa gente, troppa gente! Tantissima gente, bellissimo, una sfilata grandissima! Filosofi! Alberto Ferretti! È questo che mi preoccupa! Io, Alberto, l'ho vista! Ma i Ferretti, dove ce li hanno messi? Mi fanno un male del cacchio! Tutte le mattine facciamo un programma, però qui siamo due modelle! Ciao! 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 Grazie a tutti. Buonasera, salve a tutti anche da Andrea Pezzi, Radio DJ One Nation, One Station. È una serata molto strana questa, anche per la moda, figuratevi per un DJ che è sicuramente poco abituato a parlare sfilando e a incrociare. Buonasera, molto bello qua. Philosophy è un'idea carina secondo me perché unisce il mondo della musica a quello della moda, dopo ci saranno anche dei concerti. Per quanto mi riguarda, devo guardare in là, mi hanno detto prima, ci sono su Radio DJ tutte le sere, alle 21 di ogni sera.